Le farmacie comunali di Magenta aderiscono per il quarto anno consecutivo all'iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico che invita i cittadini ad acquistare nelle farmacie un medicinale che verrà poi donato alle famiglie bisognose. All'iniziativa ha aderito anche la farmacia comunale della frazione di Ponte Vecchio. Si stima che circa 434 mila italiani oggi non possano avere accesso ai farmaci o rinuncino addirittura a curarsi. Questa veramente è una piaga sociale vista anche il periodo pandemico che stiamo vivendo e tutto questo va a carico del Servizio Sanitario Nazionale perché chi non si può curare ovviamente potrebbe anche incorrere in problemi ben più gravi che poi vengono risolti dai nostri ospedali. Quindi il banco farmaceutico è importantissimo, siamo qua appunto nella farmacia di Ponte Vecchio dove abbiamo anche ripristinato l'illuminazione esterna e presto ripristineremo e potenzieremo tutta la parte di videosorveglianza che oggi appunto funziona e dà un servizio ma quello che puntiamo è sempre più sicurezza per i nostri farmacisti e per i clienti e i pazienti che ogni giorno scelgono le farmacie comunali come punto di salute.